La prima parola che mi sento di dirti è l'ambizione e quindi mi ha spinto fortemente a fare questa scelta perché credo che una squadra come il Palermo quest'anno, anche per il Palermo, la prima parola è proprio l'ambizione e quindi credo che tutti e due ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda e sullo stesso pensiero. Credo che è normale che ci sia un po' di negatività attorno a questa squadra, soprattutto dopo l'annata di l'anno scorso, dopo una retrocessione, è sempre normale avere un po' di scorie negative. Ho lavorato poco, sono arrivato da poco e ho fatto pochi allenamenti, però credo che la squadra sia una squadra importante, composta da giocatori importanti. Poi per quanto riguarda le garanzie faccio il giocatore e quindi penso a fare al massimo il mio lavoro, però credo che il direttore con il presidente e con l'allenatore abbiano la voglia e l'ambizione di cercare di fare una squadra altamente competitiva. È inutile nasconderci dietro un dito, l'ambizione e l'obiettivo del Palermo è quello di tornare in Serie A. Non è perché Bellucci è un giocatore che ha 150 partite in Serie A, allora di merito gli spetta chissà cosa. Mi hanno scelto come giocatore, sono onorato di far parte di questa squadra, di questo club importante e poi strada facendo, allenamento dopo allenamento, il mister si renderà conto del giocatore che avrà e credo che tutti questi discorsi nasceranno in un secondo momento. È estremamente positivo, credo che sia un alleatore molto preparato, ne parlano tutti un gran bene e quindi speriamo tutti di aiutarci per fare il massimo. Dipende solo da noi, capisco e è comprensibile la protesta e le difficoltà della tifoseria, però per il bene della città, per il bene della squadra proprio che amano, dobbiamo cercare di essere uniti e di battagliare contro lo stesso nemico che è il campionato di Serie B e che è il campionato da vincere. Io spero che nel breve tempo possibile riusciremo a riconquistare i tifosi, ma questo dipende da noi e dipende da quello che daremo in campo. Prima riusciremo a trasmettere la nostra voglia e la nostra ambizione e determinazione di voler fare un campionato importante, riportare il paramo in Serie A e credo che prima i tifosi si riavvicineranno alla squadra. Questo è un messaggio che sicuramente deve passare, è quello che noi dovremmo dare tutto sin dall'inizio, soprattutto all'inizio, per far vedere che noi come squadra vogliamo fare il massimo e poi speriamo che nel breve tempo, nel più breve tempo possibile, riusciamo a riavvicinare i nostri tifosi che credo che ogni volta che ho giocato qui è un valore aggiunto. Credo che quest'anno sia un campionato davvero ed estremamente difficile perché rispetto agli ultimi anni si è alzato molto il livello delle squadre e attualmente, come dici bene tu, non c'è un favorito. Però noi come squadra siamo una squadra importante e deve essere il nostro obiettivo. Poi con l'aiuto del pubblico, speriamo il prima possibile, con l'aiuto del direttore sportivo, dell'allenatore, speriamo di riacchiudere qualche altro giocatore importante per la B e qualora dovesse accadere siamo ancora più competitivi. Però già oggi credo che la struttura e l'ossatura della squadra sia un'ottima squadra. In maniera definitiva ti dico che possiamo dire la nostra, ma non in un campionato anonimo, ma possiamo dire la nostra per lottare e per vincere questa annata. Nella difesa 3 posso giocare in tutti i ruoli, sia a destra che a centrale che a sinistra. Poi ne parleremo e vedremo col mister dove ritiene più opportuno. Nella difesa 4 preferisco fare il centrale. Ho giocato la maggior parte delle partite da centrale. Poi eventualmente in emergenza posso dare una mano anche a destra, ma non è il mio ruolo.